C'erano stati segni in tal senso fino adesso, però bisogna analizzare bene i dati positivi, i dati negativi, la prestazione per ogni tratta di positiva. Poi è successo qualcosa, è scattato qualcosa nel termine di tutto il gruppo che non ci ha fatto fungermare la tartina e forse abbiamo sentito un po' meno l'aggressività al lavoro.